Ho detto una cosa, una serie di cose convocando l'appuntamento di oggi. Punto numero uno, ovviamente che non ce l'abbiamo con il Festival Repubblica delle Idee, se verrebbe rastrozzata, ce l'abbiamo col fatto che si discuta di noi senza di noi. E questa cosa è inaccettabile, è inaccettabile in qualunque istituto, una famiglia, un'associazione, una scuola, che senso avrebbe una scuola senza una rappresentanza studentesca? Che senso avrebbe un centro sociale senza un collettivo democratico di gestione? Che senso ha un teatro senza la partecipazione dei lavoratori, dei scenografi, dei macchinisti, degli artisti? Non è un'istituzione, è una vita dura. Allora, sembra che non ci facciano parlare. Quindi adesso il camion lo giriamo affinché le casse puntino verso l'arena del sole e le parole che diciamo si sentano. Per piacere, i primi quattro condoni passano davanti al camion e ci avviciniamo all'arena del sole. Adelante, compagnia, lo salta la vittoria! Siete! Salta la vittoria! Siete! Noi non abbiamo paura, ma ne molti!